musica 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 oh ciao bello sai ma hanno detto che c'è un prete dalle tu parti che in culo vi metti martedio di scena che la gente in vestaglia quelli all'indietro e ciò sta un po' attento perchè non vorrei eh capito oh boia oh sipole oh chi è? oh boia ma sei te? Giancarlo ma no mi in culo oh boia e ora e ora io la tiro fino in cantina andiamo boh boh ma ahahahahah cari di de merda c'è una certa età io eh ma io ho il ancade mamma mia a aia si stanno dall'infradito comprati allo stefanel mmm oh è il posto di merda brutto da fa schifo cosa ci si può fare? leggiamo un libro allora allora ma e anche un po' puttana no no ma come ma come la mamma del salva no ci posso vedere e via vabbè basta chiudiamo cosa cosa sapesti oh 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 no 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 boni 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 che via fa me andare di là che ho visto cosa di brutto eh 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 oh 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 no 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 me lo rivolgo 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 no no però dè ah mi hanno mutato un po' troppo un po' troppo forte nel culo ah mi hanno mutato un po' po' ah ah eh eh beh muoio sigaretta ah 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 ah